eccoci qua eccoci non siamo tornati domani ma solo tra pochissimo pochi minuti e siamo e siamo tornati e allora vogliamo parlare di una bellissima realtà anna maria in realtà molto emozionante anche se non si è fruitori di questo genere artistico però secondo me non ci si può non commuovere ed emozionare parliamo del balletto in questo caso parliamo di un'opera bellissima forse una delle più romantiche giselle che andrà il repertorio puro sì sì andrà in scena a piacenza il 26 marzo e qui parliamo proprio di un caposaldo fondamentale del repertorio della danza mondiale visto che riassume in sé un po tutti gli elementi stilistici tecnici ed espressivi del balletto classico romantico allora ci vediamo subito questo assaggio grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uno dei titoli più amati, diciamo, è stato anche tra i più importanti del repertorio del balletto romantico, quindi rimane sicuramente un caposaldo. Torniamo al Teatro Municipale di Piacenza dove già abbiamo fatto presenza lo scorso mese con Romeo e Giulietta. Torniamo nuovamente con questo titolo meraviglioso il 26 marzo, questa volta con la compagnia del Sofia City Ballet e con le coreografie appunto della signora Maria Grazia Garofoli, coreografa e già direttore del ballo della Fondazione Arena di Verona e per noi è un onore presentare questo suo bellissimo lavoro. E' certo, ma ragazze che emozione è questo debutto, un lavoro immenso, enorme dietro la messa in scena di Giselle, immagino. Da dove si parte? Ma in realtà si parte dall'amore per questo balletto, perché questo è un balletto molto speciale che nasce dall'amore di Théophile Gautier per la Carlotta Grisi. Quindi in qualche maniera questo tema dell'amore è molto forte nel contesto di Giselle e quest'amore che supera il tradimento e che anche sovverte in qualche maniera le regole dell'epoca, perché c'era un predominio del nobile. E in realtà qui che cosa succede? È Giselle che dimentica del tradimento, di tutto ciò che l'ha portata alla morte, a sua volta cerca di salvarlo perché l'amore che lei ha per lui è superiore a ogni cosa. Quindi questo è un messaggio molto bello che la ballerina deve sapere trasmettere, ecco perché è uno dei pezzi più difficili per una ballerina, che non lo può fare in giovane età. In giovane età deve maturarlo questo ruolo perché deve provare amore, dolore, passione e forse in questa maniera si riesce a comunicare al meglio questo stato d'animo che è il balletto Giselle. Giselle inquadriamola così facciamo capire anche a casa che storia ha, come si trova a vivere questa vita così passionale, ricca di emozioni, che poi è un po' il denominatore comune del balletto. Troviamo sempre una figura femminile molto forte che ha un passato abbastanza turbolento e questa turbolenza di emozioni poi si vede sul palco. Nel caso di Giselle, siccome come ripeto è di Teofil Gautier ha scritto espressamente per la Grisi, di cui era follemente innamorato, in questo caso il discorso si sovverte perché Giselle è una contadinella, è una persona, un animo semplice e la nobiltà ce l'ha nell'animo, ma non come livello sociale, mentre Albrecht rappresenta la nobiltà, il nobile che può tutto e che può disporre di tutto e in qualche maniera approfitta di questa disponibilità e questa possibilità che gli dà, diciamo, il suo ruolo. E Giselle da contadina dà una lezione di vita e di amore ad Albrecht in qualche maniera. Nel frattempo stiamo vedendo dietro di noi proprio questi due personaggi, prima sono entrati, ed è proprio per questo che lei dice che una ballerina deve avere una maturità interiore per poter interpretare questo ruolo? E sì perché... O una maturità di tecnica anche? Tutte e due, la tecnica viene superata in questo caso, in Giselle la tecnica è meno importante, si deve avere una tecnica talmente forte che si deve dimenticare, a favore dell'interpretazione. Ogni gesto, ogni passaggio nasce da una profonda emozione interiore e quindi la tecnica è un supporto, ma non è il supporto. E' uno dei fattori importantissimi per la ballerina, ma c'è assolutamente il superamento tecnico. Quindi diciamo questo è stato il punto di partenza per la ricerca di Giselle, dell'interprete, dell'artista che avrebbe potuto, che potrà quindi interpretarla nella maniera migliore possibile. Certamente abbiamo noi un esempio perché secondo me le più grandi ballerine, le più grandi interpreti di Giselle sono tutte italiane, perché proprio nella nostra natura, a parte è stato costruito sulla personalità di un'italiana, nel 1841 siamo nel pieno romanticismo per una persona estremamente romantica e piena di emozioni, come è stato, ripeto, la crisi, e Giselle parla italiano. E vediamo un altro assaggio, così gustiamo anche della musica. Reggia, gentilmente, l'altro video. Prego. Reggia, gentilmente, l'altro video. Reggia, gentilmente, l'altro video. Reggia, gentilmente, l'altro video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La prima più importante è stata la finisce di Venezia e ho danzato con Nurev e in seguito anche con Sirilla Tanasoff che era un famosissimo ballerino dell'Opera di Parigi. È stata per me una grandissima emozione perché chi mi ha preparato in questo ruolo è stato Poliakov che è un grande maestro, tra l'altro scomparso, che ha lasciato veramente un grosso vuoto nel campo artistico. Italiano e francese ma a questo punto io penso a livello internazionale. Sono stata preparata da lui e questo ruolo per me l'ha fatto sbocciare, me l'ha fatta amare, l'ha fatto crescere nella maniera più profonda. Per cui io in quei momenti che ho danzato io credevo di essere Giselle. Lo pensavo fortemente e veramente in alcune scene mi veniva da piangere ma perché c'era un'identificazione totale nel personaggio. Ed è stata un'esperienza meravigliosa. Poi l'ho ballato altre volte in seguito ma diciamo l'emozione della prima volta in qualche maniera non si dimentica mai, rimane sempre dentro. E come il primo amore, anche questo è il primo amore per Giselle. Anche la sfida, c'era un pubblico alla Finici di Venezia, era pienissimo, c'era una grande aspettativa. E quindi c'era anche questa forte emozione di non voler deludere nessuno nel mio maestro, nel pubblico e soprattutto non volevo deludere me stessa. Ma questo non è avvenuto. No. Questa è la cosa più importante. Ha un bellissimo ricordo. E diciamo dalle emozioni sul palco, le emozioni nel backstage diciamo perché qui lei si trova a coreografare Giselle e Antonio. A dirigere. Eh sì, ma si rivive, si rivive intensamente perché c'è quasi uno sdoppiamento di personalità, nel senso che a me accade, non accade a tutti, ma a me accade che io mi identifico nella persona che sta ballando. Io sto ballando insieme con lei, io sto condividendo le stesse emozioni, lo stesso piacere. Proprio perché c'è passata. Sì, sì, c'è un processo di identificazione e non c'è nessuna forma di gelosia, non c'è nessun reto prensiero, neanche di nostalgia. C'è un'identificazione. E soprattutto perché poi l'emozione continua, no? E' soltanto un spostare l'emozione nel corpo di un'altra persona. Volevo dire proprio questa fase. In questo caso, aggiungo una cosa importante, in questo spettacolo che noi faremo il 26 marzo, i primi ballerini ospiti per i ruoli principali saranno Ige Cornelis, che è il primo ballerino dell'opera di Essen, che appunto sarà il principe Albrecht, e Giselle sarà interpretato da Rosa Pierro, anch'essa prima ballerina dell'opera di Essen, italiana. E con la quale io ho fatto una piccola sfida anni fa, perché non ero molto convinto di questo ruolo. Quando lei l'ha ballato la prima volta, l'abbiamo fatto in America insieme la prima volta per un altro progetto, per un festival, e lasciò tutti veramente sbigottiti da come l'ha interpretato. Adesso sono contento di poter offrire a questa ballerina italiana un orgoglio italiano. Io appoggio, se voi sapete, ho fatto questo discorso tante volte anche qui da voi, appoggio i talenti italiani. Sono veramente molto contento che lei potrà lavorare questo ruolo insieme alla signora Garofoli, che, lasciatemelo dire, è attualmente l'ultima delle Giselle viventi, con un bagaglio che può trasportare ad una ballerina questo tipo di lavoro, che è un lavoro appunto molto complesso, perché il personaggio è terribilmente complesso. C'è un grande lavoro tecnico che poi lascia spazio ad una grandissima porzione di attorialità che la ballerina deve avere. Ci sono delle scene, una in particolare quella della follia, dove è solo e prettamente attorialità, non c'è danza, non c'è niente, ed è tremenda, un banco di prova terrificante. E mano a mano che ci si avvia alla fine dello spettacolo, si unisce sia la parte tecnica, sia la parte drammatica, che deve essere sempre tremendamente preponderante. Quindi c'è tanto anche di emozionalità che viene data oltre alla tecnica, anche proprio da una interpretazione. È per questo che si parlava, no, prima di una maturità particolare. Antonio, tu nel tuo mestiere sicuramente ne hai viste tante ragazze che aspirano a Giselle. Qual è l'emozione che le unisce tutte? Guarda, ho visto tante ballerine danzare questo ruolo, italiane, straniere, però veramente io mi riaggancio a quello che ha detto anche la signora Garofoli prima. Forse in questo ruolo, proprio perché veniamo da una tradizione di creazione per un'italiana, perché è stato creato per un'italiana, quindi non c'è un cliché di formazione sul titolo di tipo estero, russo o di altra nazionalità. Credo che la ballerina italiana sappia conferire, una ballerina italiana che lo lavora in una certa maniera, sappia conferire a questo personaggio il giusto carattere. È un personaggio pieno di una grande caratterialità, senza la quale o con solo la parte tecnica, tu non arrivi a fare bene. E quindi se non c'è uno studio, e forse anche una predisposizione di come siamo noi italiani, cioè di come è il nostro istinto, la nostra italianità, viene molto riportato in questo tipo di spettacolo, c'è tanto. Non è, ripeto, un cliché di un'altra nazionalità che tu vai a interpretare, quindi devi un po' capire. È proprio creato per un'italiana e questo si riflette molto anche nella parte esecutiva dello spettacolo, si vede, si vede molto. Questo si vedrà in questo spettacolo, mi pare di capire, sarà magico, meraviglioso, il 26 marzo a Piacenza. Ci sono arrivate due domande dai nostri telespettatori. Chiediamo alla regia. Eccola qua. Salve Antonio, scusa la mia ignoranza, ma qual è esattamente il ruolo del manager internazionale di Balletto? Francesco da Monte Rotondo. Bene. Allora, buongiorno Francesco. Ti vado a rispondere. È un ruolo di una figura intermediaria, che svolge appunto un'attività di rappresentanza, un mandato di rappresentanza, tecnicamente chiamato così, un mandato di rappresentanza tra l'artista e il festival o il teatro. Quindi è un soggetto che agisce in nome e per conto di un'altra persona, utilizzando dietro appunto un consenso scritto i dati personali e sensibili della persona, quindi trattative economiche, dati personali, un po' di burocrazia. Un po' di burocrazia e agisce in nome e per conto dell'artista per lasciare l'artista a fare ciò che è il suo compito, cioè l'artista, quindi non occuparsi di tutta la parte, chiamiamola più così, più rognosa, più cavillosa, che è quella burocratica fiscale. L'intermediario, ovviamente subentra anche la parte economica perché è inutile, non dirlo, nel senso di arte si vive a mestiere e quindi come tutti i mestieri si guadagna. Assolutamente. E anche lì chiaramente il manager fa la trattativa. Fa la trattativa e c'è una regolamentazione poi privata tra l'artista e il manager su quella che è poi la parte di compenso rispetto all'uno e all'altro. Certo, è stato molto esaustivo. Non se ne parla tanto di manager di balletto, siamo più abituati a sentire manager di cantanti, dello spettacolo, attori, però è una figura... Beh, è una figura anche molto diffusa, anche all'estero è molto diffusa, in America, in Inghilterra, insomma. Ma noi siccome arriviamo sempre con qualche piccolo scarto di decenni, piano piano arriverà a consolidarsi anche... E verrà data la giusta importanza. Certo, voi ti siete in Italia più o meno? Pochissimi. Si incontrano sulle dita? Su una mano, non si chiude una mano. Mamma mia! Siamo pochi, sì, siamo molto pochi. Abbiamo un'altra domanda. Vediamo se arriva, eccola qua. Buongiorno a tutti. Da dove si parte quando bisogna mettere in piedi un'opera di balletto? Grazie da Maria. E io credo che questa domanda si è rivolta a Maria Grazia. Da dove si parte il punto di partenza? Innanzitutto... Deve fare prima un'indagine, un'indagine storica, vedere il contesto in cui è stata creata questa opera e quindi si deve partire acquisendo maggiori informazioni possibili. Per poi dimenticarlo perché si deve prima partire con la testa organizzativamente. Poi dopo bisogna cambiare. Quando si entra in sala prova bisogna tutti questi dati acquisiti. bisogna dimenticarlo perché devono rimanere come base creativa per farti creare il più vicino possibile a quella che è la realtà storica del contesto del balletto che tu devi coreografare. Ecco, è un processo immagino complicato, nel senso si fa anche ricerca, si vedono immagini, video, per trarre ispirazione o per esempio dal suo punto di vista lei ha già molto chiaro quello che sarà? E sarà molto chiaro perché quello che mi è stato insegnato a me io lo riporterò. Anche se in questa occasione volevo precisare che ho avuto anche, grazie ad Antonio proprio, una specie di illuminazione. Perché avendo io sempre studiato con maestri russi e avendo impostato questo ruolo in una certa maniera, aver visto un video americano della Fracci, tra l'altro, dell'American Ballet, ha supportato certe idee di modernità che io avevo dentro di me e che vorrei in questo caso applicare. Il tipo di recitazione molto americano, molto cinematografico, che alleggerisce e ce lo riporta un po' più vicino ai giorni di oggi. Sì. E' un ponte che vorrei tentare di fare fra la tradizione e il modo di essere di oggi perché non si veda questo Giselle come un reperto solamente di un certo tipo, di pieno romanticismo. Sì, lo stile deve essere perfettamente lo stile del 1800, siamo metà, diciamo, 800, quindi siamo nel pieno romanticismo. Però il modo di porgerlo e di farlo arrivare al pubblico, secondo me, deve essere più moderno. Bene, e queste sono tutte le premesse che poi hanno messo in piedi Giselle, che sarà sentito uno spettacolo unico, data unica, ma io credo e vi invito, e secondo me il pubblico ve lo chiederà, di offrire al pubblico altre date. Anche perché siamo in sold out, quindi tutto è saluto. Ah, questa è una bella notizia, la locandina è bellissima. Ecco, ma Antonio, dove andrete dopo Piacenza? Dopo Piacenza avrò uno spettacolo al Teatro Carcano di Milano, però cambio completamente genere e faremo due serate dedicate alle danze bolere, con il Conservatorio Reale di Madrid. Che bello! E quindi ci sarà una serata con il Conservatorio, con questi ballerini strepidosi, con coreografie appunto basate sulla scuola della danza bolera e all'interno delle quali presenteremo anche un estratto della coreografia Anna Floresta del maestro Nacio Duato e delle creazioni del coreografo Cristian Cellini. Il 5 e 6 maggio al Teatro Carcano di Milano, poi arrivato nuovamente lontano, ritorno in Corea in giugno per un'altra tournée che mi vedrà occupato un mesetto e poi torno in patria perché farò quest'anno, sono molto contento di portare un grande progetto con Fernando Montano che è il primo ballerino da Royal Ballet di Londra. Faremo un bellissimo progetto per il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Ah che bello! Oh che bello! E noi adoriamo il Festival dei Due Mondi. Sì, quindi ci sarà questo bellissimo progetto insieme alla compagnia di Jersey di Londra. Insomma non ti annoierai mai, mi sembra Antonio, che da qui al prossimo futuro ce ne sono tante le cose. Intanto ci soffermiamo sul presente tutti a Piacenza al Teatro, ricordiamo? Teatro Municipale di Piacenza, 26 marzo, ore 16. Giselle. Ore 16, Giselle. Tutto coreografato e curato dalla nostra Maria Grazia Garofoli e tua coreografa che ringraziamo, ringraziamo ovviamente anche il nostro Antonio Nizio. Grazie, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi di questo invito. Che si dice quando c'è il balletto? Perché al teatro si dice una cosa. Anche la stessa cosa che dice anche nel balletto. L'ospettacolo è internazionale. È un linguaggio universale. Pure si può dire anche in bocca al lupo. In bocca al lupo. Allora diciamo in bocca al lupo. Oppure si dice alla francese che rimane più delicato. E allora buon lavoro. Grazie per essere stati con noi. Noi Simone ci vediamo tra pochissimo e continuiamo a parlare di arte e questa volta della nostra arte italiana. A tra pochissimo.